Ancora sangue sulle strade dell'Aretino, c'è stato infatti un gravissimo incidente venerdì sera poco prima delle 20 lungo la strada regionale 73 in zona San Marco, costato la vita ad una persona. Un tremendo schianto, il secondo nell'arco di sole 24 ore, nel pomeriggio lungo la 1 tra Monte San Savino ed Arezzo un 24enne era morto dopo essersi schiantato con il suo furgone contro un camion, nel tardo pomeriggio un'altra vita spezzata, attorno alle 19.45 alle porte della città una moto si è infatti scontrata contro un'automobile, tre le persone coinvolte, due 33enni ed un 35enne tutti residenti nel comune di Arezzo. A perdere la vita Enrico Chini di 33 anni al momento dello schianto stava viaggiando in sella la propria moto, poi l'impatto improvviso, un urto tremendo che lo ha scaraventato a metri di distanza, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La vittima, appassionato motociclista, lascia adesso una bimba piccola. Ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo invece il conducente e il passeggero dell'auto che hanno riportato vari traumi al cranio, al volto e agli arti. Sul posto, oltre al personale del 118 e i vigili del fuoco, è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto ad eseguire i rilievi di legge e con il supporto della polizia di Stato a regolamentare il traffico rimasto congestionato per ore.